Inizia nel migliore dei modi l'avventura del nuovo mister Caneo sulla panchina della Turris. Il neotecnico De Coralini centra la prima vittoria del 2021 nel derby con la Casertana, spezza la striscia negativa di 9 partite senza successi con un solo punto racimolato in 7 partite e riporta a 8 i punti di vantaggio sulla Paganese, la prima squadra a occupare la zona play-out. Parte bene la Turris con Romano che chiama la parata il portiere Avella, ma alla prima occasione i falchetti passano con Pacilli che di testa anticipa la difesa su un cross dal fondo per il vantaggio rosso-blu. Reazione immediata dei Coralini con Lorenzini che svetta su un calcio d'angolo trovando subito il pareggio. Ancora Pacilli si vede respingere una conclusione da un ottimo intervento di Abbagnale e nel finale di frazione Brandi da fuori non trova lo specchio della porta. Nella ripresa fa il suo esordio il moldavo Bojciuk che ha una nitida occasione da solo in area ma manca clamorosamente il colpo vincente mettendo fuori causa anche i compagni. Alla mezz'ora fallo di Rillo su Giannone in piena area con l'arbitro che decreta il penalty che lo stesso Giannone trasforma per il sorpasso della Turris. La gara resta in controllo dei padroni di casa che sfiorano il Tris nel recupero con un gran tiro di Persano che scheggia la traversa. Al fischio finale grande entusiasmo della squadra e del tecnico per il primo successo del nuovo anno che restituisce tranquillità a tutto l'ambiente in vista dell'imminente trasferta di domani contro il Potenza.